Lo so, è dato che sono la vicina di fuori campo, lo so che lo starete guardando in un quadro di Picasso, anzi molto bellissimo. Ragazzi questa qua è la serie più epica del canale, arriviamo a 3 like per il prossimo Devocavazio Sud. Io vorrei arrivare in fotocamera, infatti ecco la mia mano. Buona visione ragazzi! Buona visione! E intanto qua c'è il faccioletto e buona visione! Bella tornare in questo nuovo video! Questa qua c'è una nuova serie! Allora, siamo nella Luke Besus Food. Mi dite voi qui sotto i miei commenti cosa dovrò mangiare di così gigante, così brusco, bruttissimo, però per il primo episodio ho deciso di mangiare questa. un pacco di cornoflexi, insomma, si chiamano le riscripes, come si chiamano, non lo so. L'ho appena, la prima volta che l'assaggio, infatti già ci ho fatto un assaggio, già, ecco vedi, questo qua è praticamente tutto il pacco, un pochino meno delle cornoflexi, però, agab, io mi dovrei mangiare tutte queste. Qua c'ho un passoletto perché sicuramente sputerò più a balanga. Buona visione! che diciamo. Però mi ti avverebbe un bicchiere, così è troppo... Eccolo. Già, non ce la faccio più. Ho appena venito di mangiare, Roberto, ho pranzato ora. No, non finisco, non finisco, se lo scommette. Ma non riesci a venerdì, mi sa. Io dovrei stoppare un po' il video perché così tutto il video ce la faccio. Così sembrano di più, però. Così. Deve non essere così. Sennò ho la sensazione che sembrano di più. Sta cadendo tutto. Già sto sbavando perché ho mangiato tantissimo. No, non ce la faccio. Troppo. Non parte troppo, non è. Il primo look vedo il spud. Questo canale. Non ce la faccio più già. Non ce la faccio più. Guardate quanto ho sputato. Quelle sputate non me le mangio. Non scrivo. Già lo faccio più. Il primo e l'ultimo li ho capito sul spud. Ma lo giuro, il primo e l'ultimo. Provo a farmi la guarda. Non mi conviene, però la devo fare. Già, va. Oddio, guardate quanto ne ho preso. Queste latte non sono neanche buone. Te lo giuro. Guardate non sono buone. Ragazzi, se lo fate pure voi... Vedete mai essere buone. Oggi la faccio più. Adesso già lo... E non è un singolo, è un cazzo di like, a vero. Non ce la faccio più. Passa! Almeno... Io ero iniziato da qua, quindi già siamo qua, da tanto. Guardate quante... Tutte queste... Tutte, tutte queste sono state sputate. Basta, l'ultimo è basta. No, non mi c'entra! Non riesco a cogliare! Almeno... Un quarto l'ho fatto! Perché non c'è da qua, quindi qua siamo. Un quarto l'ho fatto! Dai, voglio fare due quarti, voglio arrivare a due quarti e poi mi fermo. Due quarti sarà qua. Vai, due quarti e quattro quarti. No, non ce la faccio! Non ce la faccio più! No! Non mi c'entra! Non mi c'entra, guarda! Sto facendo un casino ma non mi c'entra! No! Il video è finito, andate in pace perché non ce la faccio più! Ho fatto un casino ma ho cercato di farcela, ma non ce l'ho fatta! Qui c'è un casino, non lo so, pulirò! Se non me ne te lo pulirò! Poi... Spero che il video vi sia piaciuto! O me no! Non lo so voi! Se volete che la prossima settimana riesci a caricare anche il secondo... Perché sarà con le goliador... 50 goliador... Che forse lo andrò a fare subito oggi, ma io non ce l'ho troppo! Eh! Mannaggia perché è venuta l'idea di fare questa cosa! Non ho capito l'idea che mi è venuta per fare questa cosa! Il mio caveto spud è terminato! Mi sia piaciuto? No! Sinceramente almeno! Però che ci posso fare? La vita! C'è chi piace e a chi non piace! Ora è un casino riportare queste cose ma ci dovrò riuscire! Non c'è chiudere! Mannaggia è sceluto! Sto scenduto! Perfetto! Spero che il video vi sia piaciuto, anzi ci vediamo dopo... Per salutare! Ciao! Basta ora questo video Forse il video peggiore per me Ma migliore per voi Può finire qui Sempre vi ringrazio per la visione a todos Se faccio una gran malamena Ora posso andare pure a fare i compiti Vabbè domani vado a Romics Registrano un video con la musica Incredibile Ci potreste andare a Romics Ci sono alle 11 Poi avete già un'alluna Mi sa Gli illuminati crew Voglio andare a vedere Dexter, Maxor, Samperanzo Crew Murray e John John Se questo video vi sia piaciuto Lasciate tanti like Se il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Al channel Il prossimo video Non credo la prossima settimana Perché voglio far vedere prima A tutti questo look Per il sfrutto Look che si scrive L Come il gelato Quindi no Look Look con l'acce Spera che il video vi sia piaciuto Ciao ragazzi Iscrivetevi al canale se è ancora arrivato Spero che questo video vi Faccio iscrivere un po' Alcuni altri al canale Perché voglio arrivare soprattutto a 25 iscritti Ciao ragazzi Buonì Ciao Che c'ho qua Ciao Non ci stoppa Quindi vi dovrò un pochino A mozzare Buonì Ciao 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 Ciao